L'abbiamo detto in apertura, parliamo di politica. Sardegna al centro, è partito da pochi mesi il tesseramento e sono migliaia le adesioni al Movimento. Bebo Madeldu. Sardegna al centro 2020 sta crescendo giorno per giorno e si sta strutturando sempre di più in tutti i territori della regione. In questi anni abbiamo costruito le fondamenta del nostro progetto politico e il grande successo della presentazione del 21 e del 22 aprile a Sassari e a Cagliari hanno confermato che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Lo testimoniano il fatto che ogni giorno stanno nascendo nuovi coordinamenti, nuove adesioni da parte di sindaci, amministratori e cittadini di buona volontà, soprattutto quelli che hanno a cuore il senso civico. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli del coordinamento dell'Ogudoro, di Alghero, di Porto Torres, di Ozieri. L'entusiasmo per questo progetto politico è tangibile e è diventato quasi virale, tant'è che nelle prossime settimane si costituiranno i comitati e strutture delle province di Cagliari, di Nuoro, di Oristano, della Gallura, del Sulces, del Medio Campidano e di tantissimi comuni piccoli e grandi dell'intera isola. E' anche iniziata la nostra campagna adesioni e i numeri sono già ben oltre le nostre aspettative, così come sta proseguendo quotidianamente l'attività di dialogo, di confronto con gli amministratori locali e con tanti singoli cittadini. Per questo noi rinnoviamo l'appello al dialogo con tutto quel mondo produttivo, con le associazioni di categoria, con i volontari, con i sindacati, tutto questo per avviare un confronto aperto su tutti i grandi temi legati allo sviluppo della nostra isola. Noi ci siamo e siamo pronti a discutere con chiunque voglia impegnarsi per questa terra.